Taglio del nastro questa mattina per la stanza tutta per sé presso la caserma di M.E. reparto territoriale dei carabinieri di Gela guidato dal comandante Valerio Marra. Si tratta di un progetto promosso in ambito nazionale dal Sor Optimist International e fortemente voluto dalla sua presidente nazionale Leila Picco che avendo sottoscritto un protocollo di intesa con il comando generale dell'arma dei carabinieri ha promosso la nascita di numerose stanze e molte caserme dell'arma. A Gela hanno lavorato lacrimente le socie del locale Sor Optimist Club preseduto da Maria Grazia Falconeri affinché anche nella città del Golfo potesse concretizzarsi il progetto che nasce dall'esigenza di creare un ambiente idoneo e accogliente in grado di garantire la massima riservatezza e la giusta tranquillità a donne traumatizzate dalle violenze subite vittime di maltrattamenti morali e fisici. Denunciare le violenze subite per molte donne spesso rappresenta un vero atto di coraggio ed essere ascoltate da personale sensibile in un ambiente idoneo può restituire fiducia speranza e dignità ad esseri umani che ne sono stati privati. Il progetto della stanza e il design interno è stato curato dalla socia del Sor Optimist Club di Gela l'architetto Marilena Rampanti. Si tratta di un progetto nazionale tra l'arma dei Carabinieri e Sor Optimist Italia che mira a ricreare all'interno delle nostre caserme degli ambienti che possono favorire l'aumento di confidenza e l'abbassamento della tensione da parte di persone sottoposte a particolari tipi di violenza che sono particolarmente impattanti sulla psicologia del singolo, della persona, in particolare donne e minori. All'interno di questa sala e soprattutto troveranno accoglienza ma personale preparato e disposto a ben accoglierli e ad ascoltarli. La capacità di ascolto è importante e fondamentale anche nella ricostruzione degli eventi e di tutte le dinamiche criminali che stanno alla base delle condotte purtroppo violente di cui rimangono vittime le donne in Italia. Siamo a quasi 110 omicidi all'anno, femminicidi e questo noi ci preoccupiamo in modo particolare. Donne che vengono anche in caserma accompagnate dai bambini piccoli perché le violenze avvengono davanti ai minori. Si è creato un protocollo di intesa con l'arma dei Carabinieri a livello di Ministero e di questo noi ringraziamo tutto il Sor Optimist e ringraziamo l'arma dei Carabinieri. Il nostro supporto è quello di aver creato e poi ritengo che nel senso un po' monitoreremo, vedremo man mano come andrà perché sono convinta che forse denunceranno meglio le donne trovandosi nell'ambiente, nella stanza che non ha niente di una stanza, sempre una stanza di casa può essere accogliente.